Mi e Ti Sia le nostre tradizioni che le nostre origini E comunque se vogliamo anche una storia d'amore di vecchi tempi Quindi il dialetto si lega molto bene a queste cose E traccia di te il nuovo singolo che è un po' spopolato Ha fatto circa 40.000 visualizzazioni su Youtube Quindi sta andando molto bene Per ogni giornata di sole io sarò di buon umore come te Dentro me Sono iscritta a dare a Sanremo Ho superato le fasi preliminari Sono nella fase finale di Sanremo E poi vedremo come andrà Io intanto amo la versione acustica delle canzoni C'è la versione più al naturale possibile E poi perché fin da piccola ho sempre suonato la chitarra E maturando in avanti ho appunto maturato la voce E la mia personalità è fatta la chitarra più voce Si realizza un sogno di una vita per me Cioè io ho avuto la fortuna di incontrare E di conoscere e di fare amicizia anche con un disco grafico L'ho bloccato, l'ho braccato Gli ho detto di venire a Imperia Appena conosciuto Perché noi abbiamo un sacco di talenti Di gente brava nella musica E ne sono tuttora convinta Abbiamo sentito svariate cose, devo dire Ci sono due o tre cose che salvo molto volentieri Cose che ancora devono sicuramente crescere e migliorare Però c'è sicuramente qualcosa di interessante Come sempre quando si fanno questi eventi interessanti Tra tutti gli artisti esce sempre qualcosa di bello Allora ho cantato Stay di Rihanna E tutta colpa mia di Elodie Mi piace molto Amy Winehouse come stile Perché tutti appunto mi dicono che ho la voce molto blues Quindi mi piace molto cantare anche le sue canzoni Sono due pezzi nostri Quindi interamente originali Le canzoni si chiamano Dedicato a lei E Se penso che